Terza sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, probabilmente quella con meno attenuanti. Perché se è vero che la doppia trasferta in quattro giorni fra Brescia e Trieste non fosse la miglior ricetta per pesaresi provati dal Covid e dall'assenza di lavoro in palestra, questa volta i presupposti erano ribaltati. Pesaro si presentava all'appuntamento casalingo con Treviso confortata da una settimana piena di preparazione, Treviso arrivava alla Vitrifico Arena decimata dalle assenze e praticamente senza sostituzioni. Peccato però che la VL abbia sbagliato partita fin dall'approccio arrivando al tempo supplementare in cui teoricamente doveva disporre di ancora più forze fresche degli avversari. Ma così non è stato, hanno vinto i Veneti 105-108 all'overtime e per Pesaro riemergono prepotenti ansie da una classifica tornata estremamente deficitaria. Faccio ammenda per non essere riuscito a dare alla squadra le componenti di natura tecnica ma soprattutto di natura mentale per approcciare questa gara con il dovuto atteggiamento, il modo in cui siamo entrati in campo a inizio gara e inizio terzo periodo sono lì a testimoniare la nostra poca preparazione. Quindi è legittimo che in un momento come questo di fronte a una prestazione del genere io debba fare delle riflessioni sui motivi e come si possa arrivare a fornire una gara del genere. Quando poi le cose si complicano è ovvio che cresca l'ansia, la preoccupazione e questo lo abbiamo pagato in termini di frenesia con eccessive proteste che ci sono costate anche dei falli tecnici e in generale degli errori anche piuttosto macroscopici frutto di una smarrita lucidità. Ci sono state tante occasioni che avremmo potuto e dovuto gestire meglio per portare a casa una vittoria che comunque in chiusura di tempo regolamentare era sembrata essere alla nostra portata e come detto mi prendo per primo la responsabilità della scarsa prontezza e preparazione che la squadra ha dimostrato in una serata importante come questa. Redenzione piena invece per la Vispesero che dopo il negativo debutto di anno nuovo col Teramo si riscatta alla grande a Pistoia espugnando il Melani con il più classico gol dell'ex. Quello di Niccolo Gucci arrivato da Pistoia a Pesero un anno fa è ripresentatosi a Pistoia col colpo di testa vincente su Assis di Denuzzo che al 51esimo è valso la rete da tre punti. Finisce 1-1 invece per l'Alma Juventus Fano che a vasto pareggio con rigore di Torturi al 94esimo il vantaggio abruzzese di Alessandro arrivato all'82esimo. Nella pallavolo vittoria di piramidale importanza per la megavox Vallefoglia che a Urbino ha la meglio per 3-7-0 su Bergamo diretta concorrente nella lotta salvezza ora lasciata all'ultimo posto a tre punti di distanza.